Buongiorno, in questo video oggi affronteremo un secondo esercizio, visto che questa è la settimana degli esercizi sulle simulazioni, appunto su una simulazione, come esempio ulteriore di come costruire delle simulazioni a sé stanti, poi ovviamente quando faremo il tema di esame vedremo che le simulazioni verranno poi integrate da un lato con i grafi e dall'altro con le interfacce grafiche, però per ora ci concentriamo ancora sull'algoritmo di simulazione propriamente detto. Qui prendiamo spunto dall'altro esempio che è già presente sulle slide delle simulazioni, la settimana scorsa abbiamo visto l'esempietto sul noleggio auto, adesso invece proviamo a simulare un sistema un pochino più complicato, un pochino articolato, che è basato su un esempio di un possibile dipartimento di emergenza di un ospedale, quindi essenzialmente un pronto soccorso per capirci. Questo pronto soccorso ipotizziamo che sia organizzato, come è nella realtà, attraverso più stadi, in particolare due stadi principali di accoglienza e di trattamento dei pazienti, un livello di triage, il triage è quel momento in cui si viene preso in carico dall'ospedale, dal controcorso dell'ospedale e si viene insegnato al paziente che accede un codice di gravità, per cui in funzione poi del codice, codice bianco, codice verde, codice rosso, a volte si usano questi colori, si viene poi trattati con maggiore o minore urgenza. Quindi il momento del triage è un momento molto rapido in cui, in una pratica, un infermiere valuta qual è la gravità e l'urgenza, soprattutto l'urgenza del paziente che è arrivato. Dopodiché questi pazienti, una volta valutati dal punto di vista del triage, e quindi hanno un codice di gravità, rimangono in attesa di essere visitati da un certo numero di medici che sono in servizio in questo pronto soccorso. Questi medici sono in quantità pari a NS, quindi ipotizziamo che ci siano NS, è numero di studi, studi di dottore, quindi popolati con NS medici, che lavorano in parallelo. Quindi ciascun medico quando è libero, quindi quando esce il paziente precedente dal proprio studio, è libero di chiamare il prossimo paziente in ingresso. E quindi tutti questi lavorano in parallelo, posto che ci siano sufficienti pazienti, e riescono a processare NS persone contemporaneamente. Quando un medico si libera, chiamerà il prossimo paziente, e ovviamente il prossimo paziente che entrerà non sarà chiamato in ordine di arrivo, ma sarà chiamato in ordine di gravità. E quindi in qualche modo c'è una sorta di priorità tra i pazienti, che innanzitutto va a vedere l'ordine di gravità, e dopo in secondo luogo va a vedere l'ordine di arrivo a parità di gravità. Quindi c'è una sorta di coda di pazienti, che però viene esistita anche in base al codice. In questo pronto soccorso di codice di urgenza ne abbiamo 4, 3 più 1, diciamo. Il codice bianco è un paziente che non è urgente, e quindi può aspettare, non c'è problema. Se anche aspetta un'ora, due ore, tre ore, non gli capita nulla. Il codice giallo invece è un paziente che, diciamo così, è serio, ha una condizione seria, quindi deve essere guardato, ma non è particolarmente urgente, quindi magari può aspettare un pochino, ma non è, diciamo così, da fare entrare subito, perché in realtà è una condizione che deve essere valutata, ma non con urgenza. Mentre invece il codice rosso è un paziente che ha una condizione seria, deve essere visitata e anche urgente, è a rischio della vita, e quindi deve passare il prima possibile. Abbiamo anche un codice aggiuntivo, che chiamo il codice nero, che è relativo quando il paziente invece muore. Questo codice entrerà in gioco dopo, perché ovviamente un paziente morto non arriva al pronto soccorso. Ecco, questi sono i tre codici, tre più uno dicevo, perché il quarto chiaramente non rappresenta più un paziente, ma rappresenta, diciamo così, un problemino, che ovviamente dal punto di vista del pronto soccorso non implica più lavoro, cioè ormai è morto, però ovviamente si cerca di evitarlo. E questi pazienti che hanno questi vari codici, noi possiamo simulare che si comporteranno in modo diverso. chi ha il codice bianco, arriva, chi arriva al triage, viene assognato un codice bianco, aspetta un certo tempo, diciamo così, un time out per i bianchi, e passato questo tempo, magari un'ora, due, tre ore, lì aspetta, nessuno lo chiama, perché passano davanti a lui persone che hanno sempre condizioni più urgenti, a un certo punto si stufa e va a casa. Dice, vabbè, io avrò questo mal di capo, avrò questo disagio, però non è grave, quindi vado a casa, proverò a tornare domani, ok? Quindi questo è il comportamento di un bianco. Un giallo, invece, dopo un certo tempo che è in coda, se per caso non viene chiamato dentro questo tempo, si aggrava, stiamo simulando, che si aggravi e quindi diventerà poi condizione rossa. Quindi, una persona entra, viene triageato col codice giallo, se non viene chiamato dentro un certo tempo, a un certo punto, mentre è in coda, diventa codice rosso. Mentre invece, il codice rosso, abbiamo detto che è urgente, deve essere servito il prima possibile, ma se non viene servito dentro un certo tempo, noi possiamo ipotizzare che sia così grave, che alla fine diventa un codice nero, e quindi di fatto il poveretto muore. Questo è ciò che stiamo simulando. E possiamo, chiaramente, questi valori assegnare dei valori indicativi, no? Mettiamo dei valori a caso, essenzialmente, e che potremmo poi, eventualmente, diciamo così, modificare con la simulazione. Ipotizziamo che quando un paziente arriva, il tempo necessario per fare il triage sia di 5 minuti, quindi abbiamo un paziente nuovo, che arriva, che ne so, alle 10 del mattino, e alle 10.05 a questo paziente sarà assegnato un codice di colore, e quindi potrà essere, diciamo così, messo in coda. Mentre invece, c'è un certo tempo necessario ai medici per gestire i pazienti. Allora, possiamo ipotizzare che se un paziente aveva un codice bianco, il medico in 10 minuti se la cava. Se il paziente aveva un codice giallo, allora il medico se la cava in 15 minuti. Se invece era un codice rosso, il medico invece richiede 30 minuti di lavoro per poterlo, diciamo così, curare, mandare a casa, insomma, gestirlo in qualche modo. Ovviamente i codici neri non impiegano, non richiedono l'intervento del medico, e quindi da questo punto di vista non serve un tempo, non serve tenere conto di un tempo per gestire i codici neri. Quindi, nel caso migliore, i pazienti, che sono questi signori qua, queste faccine qua, che entrano, arrivano nel sistema, eseguono l'operazione di triage, dopo il triage, si trovano in un'istra di attesa, nella coda, nella sala d'aspetto. Sono tutti nella sala d'aspetto, e prima o poi qualcuno li chiamerà dallo studio 1, o dallo studio 2, o dallo studio 3. Quindi, quando si libera un medico sullo studio 2, vanno a chiamare il primo libro, la persona, diciamo così, che ha la priorità per poter entrare adesso, per poter essere servita. Quindi abbiamo un tempo necessario per l'esecuzione del triage, un tempo di attesa in sala d'aspetto, che dipende da quanti studi ci sono, da quanti pazienti ci sono, con quali gravità, e sappiamo che in sala d'aspetto, se questo tempo di attesa diventa eccessivo, possono succedere dei problemi, cioè il paziente se ne va, oppure passa a cambiare, abbia codice, da giallo a rosso, da rosso a nero, quando invece un paziente viene chiamato, rimpermane nello studio per un certo tempo, dopodiché si considera guarito, va fuori dal sistema. Quindi c'è l'immissione di nuovi pazienti, che poi faranno un percorso di questo genere, e poi vengono, diciamo così, estromessi dal sistema, quando sono stati curati. Questo è il nostro sistema. Proviamo a ragionarlo, a dissezionarlo essenzialmente, con le categorie mentali, che ci siamo dati, quando abbiamo parlato delle simulazioni. Prima di tutto, cos'è il modello del mondo, che voglio rappresentare? In questo caso, il modello del mondo, dovrà sicuramente, tenere presente i pazienti. Cioè, quanti pazienti ci sono? Adesso? Quanti sono già arrivati? Non sto parlando della coda degli eventi dei pazienti che arriveranno, ma oggi, quanti ne ho? Dieci persone. Questi dieci dove sono? Beh, tre negli studi, e sette in sala d'attesa. E questi sette in sala d'attesa, qual è il loro codice colore, e a che ora sono arrivati? In modo che io poi sappia scegliere quale di questi dovrà uscire prima. Quindi questa è la fotografia, che mi dice, in che stato è il mio pronto soccorso. è l'elenco dei pazienti, che evolve chiaramente. Quindi il paziente in sala d'attesa può cambiare codice, il codice bianco in sala d'attesa può andarsene, il paziente viene chiamato in uno studio, il paziente esce dallo studio, e così via. E quindi evolve il mondo, cioè evolvendo la situazione dei pazienti stessi. I pazienti possono essere o in triage, o in attesa con un certo codice colore, oppure in uno studio medico. Sono questi tre macro stati. Ma se andiamo in dettaglio, io ho provato qua a rappresentare, come un diagramma stati, le varie condizioni in cui si può trovare un paziente. Questo è il testo, non è molto bello da vedere, perché va a capo in modo un po' casuale, ma ci stava, per farlo stare all'interno di cerchi, mi sono accontentato di questa presentazione. Quindi, le frecce, cioè gli stati, rappresentano le possibili condizioni in cui si può trovare il paziente, che sono chiaramente un dettaglio superiore rispetto a questo modellino che ci fa capire più o meno il funzionamento del sistema. Abbiamo detto, per noi è importante rappresentare lo stato del paziente, allora questo stato cos'è? Ci sono pazienti che sono appena arrivati, sono arrivati nel sistema e sono in attesa di triage. Abbiamo detto che il triage richiede 5 minuti di tempo, quindi ogni paziente appena arrivato rimarrà per 5 minuti nello stato di paziente nuovo. Dopodiché ci sarà una transizione che coincide con la fine del triage verso da paziente nuovo a paziente in attesa. E paziente in attesa, noi sappiamo che possono essere in attesa con codice bianco, in attesa con codice giallo o in attesa con codice rosso. E quindi l'operazione di triage potrà decidere se il paziente a questo punto lo mandiamo in sala d'aspetto assegnandogli un codice bianco, lo mandiamo in sala d'aspetto assegnandogli un codice giallo o lo mandiamo in sala d'aspetto assegnandogli un codice rosso. Qualunque sia il codice, loro sono in sala d'attesa e prima o poi verranno chiamati quando uno studio medico è libero verranno chiamati per poter essere curati, per poter essere trattati. Quindi sia quelli che hanno codice bianco possono andare in stato di treating, cioè dentro uno studio medico. E dopo la durata del trattamento, che è diversa a seconda del colore che avevano, ovviamente possono andare fuori, out. Quindi perché sono stati curati. Questo è il flusso normale. Arrivo, mi viene fatto il triage, mi viene insegnato un codice colore, sto un po' in attesa, poi mi chiamano, il medico mi guarda e poi esco. Però ci sono i casi anomali, ad esempio, quando io sono un codice bianco e ho aspettato troppo, decido di andarmene, torno a casa. Quindi dopo un certo time out del bianco, vado via. Oppure sono un codice giallo e ho aspettato troppo e quindi dopo un certo time out divento un codice rosso. Oppure sono un codice rosso e aspetto un certo numero di tempo, non mi chiamo al medico, e quindi dopo un certo time out divento un codice nero e quindi a questo punto non posso più essere calcolato come un paziente che se ne è tornato a casa tranquillo perché dovrò uscire dall'altra porta, ovviamente. Questo è il dettaglio delle informazioni interne che ci servono per rappresentare cosa sta facendo il nostro paziente. E noi dovremo cercare di modellare questo all'interno del nostro codice. Quindi teniamo come riferimento questa figura e la useremo anche poi per andare a valutare il codice, a implementare il codice. Adesso proviamo a importare un po' quello che potrebbe essere lo scopo della simulazione. Il nostro scopo della simulazione, avendo descritto il sistema in generale, è capire qual è il numero migliore di studi medici da poter realizzare. Quindi mi bastano per il tipo di pazienti pazienti che mi arrivano. Mi basta uno studio medico, me ne servono due, me ne servono cinque, eccetera, eccetera. Ovviamente devo ipotizzare, quindi questo è il parametro su cui gioco, devo ipotizzare un tasso di arrivo dei clienti, quindi la domanda che i clienti fanno sul sistema. noi ipotizziamo che arrivino nella giornata NP pazienti e la giornata magari si apre alle 8 del mattino e il pronto soccorso, ipotizziamo nella nostra simulazione, si chiuda alle 8 di sera, alle ore 20. Quindi simuliamo 12 ore dalle 8 alle 20. In queste 12 ore arrivano un certo numero di pazienti, che ovviamente sarà un parametro, e arrivano intervallati da un certo tempo di arrivo, che anche qui sarà un parametro espresso in minuti. E tanto per cominciare a simulare qualcosa, ipotizziamo che le probabilità di avere un codice bianco, giallo o rosso, siano uguali, anzi, proprio per semplificare al massimo le cose, inseriamo in modo ciclico. Cioè, il primo paziente che arriva è bianco, il secondo sarà giallo, il terzo sarà rosso, il quarto sarà nuovamente bianco, poi nuovamente giallo, poi rosso, e così via, in modo circolare. Non è un modello probabilistico questo, è un modello deterministico, anche abbastanza irrealistico, perché non c'è motivo per cui devono arrivare esattamente intervallati, però è tanto per, diciamo così, alimentare il nostro simulatore con un certo numero di dati che abbiano severità diversa. È chiaro che sarebbe molto più opportuno assegnare le probabilità ai vari stati e poi scegliere in quel modo. E cosa vogliamo calcolare in funzione di questo parametro e ovviamente in funzione del tipo di carico che il pronto soccorso riceve? Beh, il numero di pazienti che viene dimessi, cioè quelli che vanno nello stato auto dopo essere stati trattati, il numero di pazienti che hanno abbandonato, quindi quelli che vanno nello stato auto dopo essere stati il codice bianco e il decino di andare a casa e il numero di pazienti invece morti. Questi tre numeri sono, diciamo, ovviamente l'effetto, la conseguenza del numero di studi medici che ho a disposizione. Questa è una versione molto semplice che è una versione in questo, così come abbiamo descritto, ovviamente è una versione puramente deterministica. Ovviamente per questo tipo di problema sarebbe meglio e lo possiamo fare come estensione successiva, avere anche lì un po' di stocasticità nel modello. E la stocasticità la posso avere un po' ovunque, ad esempio nel tempo di arrivo dei clienti, degli utenti, dei pazienti. Cioè anziché arrivare a tutti i cadenzati uno ogni sette minuti arrivano con una certa cadenza più o meno una variazione casuale. Oppure, e questo è, se vogliamo, la differenza più importante, il triage non assegna bianco, verde, bianco, giallo, rosso in modo circolare, ma ne assegna in modo probabilistico. Quindi potrò avere ad esempio il 50% di probabilità che il codice sia giallo, bianco, scusate, 50% bianco, potrò avere il 40% che il codice sia giallo e un 10%, che è molto di meno che il codice sia rosso. Ogni volta che arrivo a un paziente dovrò estrarre il numero casuale e confrontarlo con queste probabilità per decidere quale codice colore assegnare a quel paziente. Analogamente tutte le varie dei tempi di attesa, cioè il tempo necessario per fare un triage, il tempo necessario per trattare un bianco, un giallo, un rosso, possono essere anche questi variati con una quantità casuale in più o in meno. Quindi sono tutte varianti che possono rendere più realistico, più completo il nostro modello rispetto a quello puramente deterministico che abbiamo visto qui. Ecco, questo è un po' il ragionamento che abbiamo sul nostro sistema, quindi ricordiamoci essenzialmente questo modello noi l'abbiamo specificato con questo diagramma che rappresenta l'evoluzione dei pazienti, i pazienti è lo stato del sistema, quindi lo stato non è più un numero intero che mi dice quante macchine ho, ma lo stato è una lista di pazienti ciascuno con delle informazioni associate che ovviamente ne determinano la sua evoluzione futura. Quindi i pazienti li devo tracciare, non posso solo dire ne ho 22, no, questi 22 dove sono, chi sono, a che ora sono arrivati, perché altrimenti non so chi chiamare, non so quali diciamo così vanno in out perché non so esattamente chi è arrivato a una determinata ora. Quindi dobbiamo creare un modello dettagliato in cui abbiamo le informazioni di ogni singolo paziente. Allora, dal modello ovviamente, da questo regolamento passiamo all'implementazione a livello di codice e quindi passiamo all'Eclipse essenzialmente. Siamo quindi qua davanti alla nostra pagina vuota di Eclipse con una classe simulatore e dobbiamo cominciare a riempirla. Allora, passo a schermo pieno così dobbiamo vedere meglio il codice, concentrarci meglio sul codice e proviamo a ragionare sul funzionamento del sistema. Allora, dicevamo quali sono, ricordiamo che nel ragionamento sul simulatore abbiamo sempre il gruppo di variabili che rappresentano i parametri di simulazione. Parametri di simulazione abbiamo il gruppo di variabili che rappresentano lo stato del sistema il gruppo di variabili che rappresentano gli output da calcolare e poi ovviamente avremo la coda degli eventi da gestire ed eventualmente in questo caso i parametri di simulazione alcuni saranno costanti e invece altri saranno parametri che vengono affrontati dall'esterno. Proviamo un po' a elencare questi vari tipi di parametri. Allora, sicuramente il parametro di simulazione principale è il numero di studi. Il numero di studi. Il numero di studi medici. Poi abbiamo e questo è il parametro principale su cui vogliamo andare a tarare la simulazione a usare la simulazione per tarare questo valore in modo ottimale in modo da ridurre gli altri output a calcolare. Ecco, già che ci siamo possiamo già definire quali sono gli output a calcolare che sono questi li avevamo già nelle specifiche li hanno già scritti nelle slide basta andarci da riprendere che sono numeri pazienti dimessi numeri pazienti che hanno abbandonato e numeri pazienti morti. Quindi potrei chiamare pazienti totale così mi tengo anche totale non era scritto pazienti tot non era scritto specificamente ma avere un totale mi serve private int l'altro sono i pazienti dimessi poi avrò private int pazienti abbandonati che hanno abbandonato pazienti che hanno abbandonato pazienti abbandonanti pazienti abbandonano ecco lo scrivo così private invece la quarta i pazienti che sono morti questi sono i quattro valori da calcolare in output al variare del numero di studi medici ovviamente ci sono tutta una serie di altre parametri che ovviamente influenzano la simulazione ma noi li trattiamo quasi come fossero delle costanti in pratica che sono ad esempio il le avevamo qua no le avevamo accennato sono il il tempo no scusate li abbiamo qua questi tempi di trattamento duration triage duration white duration yellow duration red e questi qua li possiamo definire private questi qua sono le duration se usiamo già appunto time duration si chiamano maiuscole duration underscore triage questo lo possiamo definire come final nel senso che non è più modificabile per noi è una costante duration of minutes quanti minuti sono 5 poi abbiamo le altre duration che sono quella del trattamento di un white trattamento di uno yellow e del trattamento di un red e le slide ci dicono che devono essere esprimativamente 10 15 30 minuti ok 10 15 e 30 minuti ciascuna e queste sono costanti per noi sono oggetti final voglio dire che sono oggetti che non possono essere più modificati se provassi a modificarlo mi darebbe un errore di compilazione mentre invece questo qua è modificabile anzi di questo valore ovviamente dovrò creare sicuramente un setter un getter magari posso anche mettere non mi fa male ma sicuramente un setter che permetta all'utente di poter impostare qual è il numero di studi medici che vogliamo simulare quindi ho creato un set set NS che è stato inserito qua sotto direttamente dai clips qua in fondo qua non mi piace tanto lo voglio spostare sotto perché qui c'è altra roba che vogliamo aggiungere va bene a questo punto ci bastano abbiamo tutti i valori che ci servono no ci serve anche il tempo di arrivo il numero di pazienti da simulare e il tempo di arrivo di questi pazienti questi li possiamo eventualmente ipotizzare come valori numero di pazienti che possiamo impostare dall'esterno magari gli diamo un default ma private duration di arrival intervallo tra i pazienti questi magari non le dichiaro final così potrò dichiarare un setter e potrò dall'esterno modificare la simulazione cambiando il numero di pazienti che arrivano mentre questi altri avendo dichiarati final non li potrò ovviamente modificare dall'esterno questa è una scelta ovviamente del momento potremo poi domani rendere anche la duration del triage modificabile per vedere cosa cambia a livello della simulazione al momento il nostro focus che ci è stato detto è quello sul numero di studi medici quindi in teoria tutto il resto rimane abbastanza fisso però il simulatore sarà in grado di simulare tutto sulla base di queste che lui tratterà come costanti ricordiamoci che durante la simulazione tutte queste non si muovono cambiano solamente tra una simulazione e l'altra in fase di initializzazione quindi il numero di pazienti lo possiamo anche qua aggiungere il suo getter il suo setter e la stessa cosa per il tri-arrival getter and setter ma in più io ci aggiungerei come avevamo detto cioè buona norma diamo un default supponiamo che 10 pazienti 1000 pazienti che arrivano ogni 10 minuti ogni 5 minuti facciamo due calcoli allora se io calcolatrice mettiamo dei valori cerchiamo di mettere dei valori sensati se io ho 1000 pazienti che arrivano ogni 5 minuti quindi per 5 dovrò simulare 5000 minuti diviso 60 sono 83 ore di sicuro non va bene allora proviamo a fare il calcolo contrario il nostro pronto soccorso è aperto 12 ore e 12 ore corrispondono a per 60 720 minuti se arrivassero 5 pazienti al minuto potrei trattare 144 pazienti ok allora possiamo mettere abbiamo esagerato qua mettiamo 150 e 10 minuti duration of minutes 5 ho messo dei valori sensati che permettono di modellare diciamo così l'andamento all'interno della giornata poi ovviamente questi potrebbero essere impostati dall'esterno in modo più sensato a seconda di ciò che stiamo cercando di simulare però almeno qui abbiamo dei default ad esempio anche qua possiamo dare come valore default 5 studi medici una cifra tonda e poi dall'esterno li posso impostare il bello di avere dei valori default è che se dall'esterno uno non imposta nulla chiama run e lui parte e comincia già a fare qualcosa di sensato ok quindi abbiamo gli ingressi alcuni pensati per essere impostati altri pensati per essere delle costanti diciamo così di contesto e le uscite in mezzo abbiamo il nostro caro stato del sistema e la nostra cara coda degli eventi che sono se vogliamo possiamo mettere vicini che sono le due parti dinamiche della simulazione vera e propria che dobbiamo far rivolvere durante la simulazione allora la coda degli eventi è la cosa più semplice no? perché noi dovremmo avere semplicemente una priority queue come sempre di oggetti evento quindi priority queue di event e io ho già creato una classe event vuota e la chiamiamo coda e essenzialmente basta lo stato del sistema è un pochino più complesso allora adesso ragioniamo sullo stato e sugli eventi gli eventi forse è più facile quali sono i tipi di eventi quindi noi abbiamo la classe evento all'interno della quale abbiamo cominciato a scrivere event type come come numerazione che mi elenca i tipi di eventi che possiamo generare beh in questo caso abbiamo il lavoro facilitato perché se guardiamo questo diagramma che ci siamo fatti i tipi di eventi dovrebbero essere praticamente corrispondenti alle etichette di queste frecce l'evento triage l'evento si è liberato uno studio l'evento c'è un time out e poi magari vediamo di che tipo sarà questo time out e così via quindi sicuramente c'è un evento in più che è l'arrivo di un nuovo paziente la prima cosa quindi un nuovo paziente arriva arriva un nuovo paziente questo non c'era nel diagramma perché ipotizzavamo partivamo già da qua ma qui qualcuno li deve mettere questi pazienti quindi quando precarico la lista devo simulare il loro arrivo poi una volta che sono arrivati ho un evento di triage che mi dice che il paziente quindi assegnato è stato assegnato in codice colore e vado in sala d'attesa in sala d'attesa poi se tutto va bene il paziente entra in uno studio quindi free studio si libera uno studio e chiama un paziente poi abbiamo qui non avevo messo un nome a questo evento ma possiamo dire che il paziente è stato trattato è stato guarito è stato dimesso quindi treated paziente trattato è rimesso e possiamo avere i vari tipi di timeout possiamo pensare di avere un evento timeout per i bianchi un evento timeout per i gialli un evento timeout per i neri oppure un evento timeout unico che dice guarda è passato un certo tempo e quindi devo cambiare qualche cosa per ora proviamo a mettere un timeout unico e poi vediamo eventualmente se dovessimo invece andare a dividerlo quando poi andiamo a implementare ci ragioniamo quando andiamo a implementare la singola gestione dell'evento timeout quindi potrebbe essere lo possiamo chiamare la terra eccessiva in sala d'aspetto questi sono principalmente i tipi di eventi che noi vogliamo gestire e il nostro oggetto evento sarà fatto come al solito da un campo che in questo caso è un local time perché abbiamo detto stiamo a differenza del laboratorio 10 dove c'erano delle ambiguità qui è stato molto esplicito il testo dalle 8 del mattino alle 20 di sera quindi il tempo è un local time perché sono all'interno di una singola giornata time avrò un attributo local time scusate devo importare il package altro spazio già appunto time private avrò un tipo event type type e poi vediamo se avremo bisogno di altre informazioni le aggiungeremo ok sicuramente l'avremo ma non voglio anticiparvi nulla e va bene e questo è il nostro evento la nostra classe evento che metteremo nella lista degli eventi poi ovviamente ne sappiamo che un evento per essere inserito in una cosa prioritaria deve essere comparable quindi implements comparable di event e questo significa che dobbiamo aggiungere un compare to che ovviamente lavorerà sul time quindi return other this punto time punto compare to other punto time e ce la siamo cavata delegando al campo time come sempre facciamo ok time ci serve ancora il costruttore e i getter essenzialmente quindi inseriamo ci facciamo costruire una classe costruttore generale constructor che partono da time e type e poi il get resetter che in questo punto genera get resetter possono essere esatto sia di time che di type probabilmente i setter non ci servono però anzi sarebbe meglio non metterli vi racconto perché sarebbe meglio non metterli quindi facciamo una parentesi piccola parentesi su questo esercizio pensate al set time il set time va a modificare la proprietà time dell'oggetto evento però questo oggetto evento è dentro una coda prioritaria in una certa posizione e c'è finito lì perché aveva un certo valore di time se io modifico l'attributo a time la coda prioritaria non se ne accorge come fa accorge? se tu modifichi l'attributo di un oggetto che lì dentro mica lo va a controllare sto modificando attraverso un riferimento che ho ottenuto chissà da qualche altra parte quindi l'oggetto coda prioritaria non può saperlo allora cosa succederebbe? succederebbe che io rischerei di modificare un parametro di un oggetto che lo rende a questo punto incoerente cioè alla fine in quella coda prioritaria non è più prioritaria perché gli elementi vengono estratti in un ordine che non è più quello vero perché nel frattempo i tempi sono stati modificati cioè detto proprio in termine poco tecnico è una porcata pensare di avere questo evento che ho schedulato per un certo tempo e poi cambiare il tempo è molto meglio in questo caso che l'oggetto sia come si dice in gergo immutabile cioè non gli mettiamo i setter mettiamo solamente i getter l'oggetto una volta che l'ho creato non cambia più soprattutto per questi diciamo così parametri queste proprietà che sono fondamentali per la sua posizione in una coda prioritaria se andate a leggere in dettaglio la documentazione di priority queue vi dice di non andare a modificare i campi che potrebbero avere impatto sulla posizione se volete spostarlo dovete prendere l'oggetto toglierlo e reinserirlo allora quando lo reinserisce andrà a vedere lo tolgo cambio il time e lo reinserisco l'operazione di reinserzione ovviamente andrà a posizionarlo nella posizione giusta tenendo conto del tempo modificato quindi per evitarmi lo faccio per me per evitarmi dei guai in futuro rendo impossibile modificare il time e quindi in qualche modo rendo diciamo così più robusta questa classe anche il type secondo me non ha non ha senso modificarlo quindi in questo caso questo evento non è un oggetto qualsiasi così ad un oggetto ha delle proprietà e mettiamo il get reset da tutti gli oggetti così come facciamo per gli oggetti DTO con cui interagiamo col database che sono puri contenitori di dati li abbiamo sempre chiamati così oggetti che contengono dati e basta questo ha una sua logica e allora cerchiamo di mettere i metodi che sono compatibili con la sua logica quello di essenzialmente gestire un ordinamento per questo motivo se non abbiamo un vero motivo i metodi set pensiamoci due volte prima di metterli ok vabbè chiuso la parentesi torniamo al nostro oggetto quindi ora direi che potrebbe avere tutto ciò che serve per andare a finire nella nostra coda prioritaria a meno che scopriamo a un certo punto che ci serviranno altre proprietà e allora a questo punto le aggiungeremo ok non possiamo sapere tutto subito ok quindi simulatore e quadro degli eventi l'abbiamo in parte risolto stato del sistema cos'è lo stato del sistema lo stato del sistema deve rappresentare gli utenti i pazienti che sono presenti all'interno della mia simulazione quindi io posso pensare di avere una collection che può essere una lista o un'altra struttura dati adesso ce l'ho inventata ci ragioniamo che contiene degli oggetti tipo paziente oggetti tipo paziente che sono tutti diversi l'uno dall'altro quindi paziente 1 paziente 2 paziente 3 eccetera eccetera ciascuno ha un'ora di arrivo ciascuno ha un codice colore ciascuno ha un luogo in cui si trova il luogo in cui si trova in parte lo possiamo già dedurre dagli eventi forse però i pazienti li dobbiamo rappresentare e quindi questi questi pazienti li spostiamo da una parte all'altra del sistema e quindi mi servirà ad esempio una lista di pazienti e devo crearmi la lista ovviamente sarà una list o quello che sarà paziente devo creare un oggetto che rappresenta le informazioni sul paziente qui non c'è un oggetto paziente dovrò crearne una classe creare una nuova classe paziente sempre all'interno del model qua ok e la classe paziente rappresenta le informazioni su ciascun paziente nel sistema quindi che cosa avrà questo paziente vabbè sicuramente avrà un tempo d'arrivo a noi serve il tempo d'arrivo perché ci serve per poter determinare la posizione all'interno della 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 sala d'attesa perdono non mi viene la parola della sala d'attesa quindi chi è arrivato prima a parità di codice e colore passerà prima e quindi qui avrò un campo che possiamo chiamare private local time ora vi arrivo poi il paziente dovrà sapere il proprio codice io sono un codice bianco sono un codice giallo sono un codice rosso o sono un codice nero quindi per far questo magari anche qua possiamo definire un'enumerazione public enumeration codice colore che possono essere white possono essere yellow red o black oppure c'è un caso in cui in realtà il codice colore non lo conosco ancora perché il paziente appena arrivato non ha ancora concluso il triage quindi nei primi 5 minuti di sua permanenza questo codice colore non è noto non è conosciuto quindi possiamo mettere un valore in più che dice sconosciuto non lo so ancora oppure so che è bianco so che è giallo so che è rosso so che è nero quindi lo mettiamo qua solo con un commento non lo so ancora perché il paziente non ha ancora finito il triage negli altri casi invece lo so ok e quindi ovviamente ogni paziente avrà anche una proprietà di tipo codice colore queste sono le due proprietà principali che al momento mi vengono in mente per rappresentare il singolo paziente quindi quando crea un nuovo quando un nuovo paziente arriva quindi gestirò l'evento di arrivo questo qua verrà creato con un'ora di arrivo e un codice colore che poi il codice colore evolverà fa parte dello stato del sistema fa parte dello stato del mondo le informazioni sul paziente quindi possono evolvere anche qua se poi ci verranno in mente ci accorgeremo che ci serviranno altre informazioni le aggiungeremo ma per ora cominciamo a completarlo aggiungendo sicuramente un costruttore costruttore partendo dai due campi ora di arrivo e colore e un nuovo anche getter setter per gli altri campi sia colore che ora di arrivo entrambi getter setter sul setter dell'ora di arrivo sono molto titubante quindi tenderei a cancellarlo perché l'ora di arrivo non si modifica una volta che ho creato un paziente che è arrivato a quell'ora quello lì rimane come sua caratteristica non è che poi dopo l'ora di arrivo cambia io quindi questo lo toglierei mentre il codice colore devo lasciare il setter perché so che durante l'evoluzione del sistema il codice può diventare da bianco a giallo da giallo a rosso e così via quindi questo lo lascio e per il momento lo teniamo così allora cominciamo a implementare le nostre funzionalità del simulatore scusate quindi noi abbiamo i pazienti che verranno messi all'interno di questa lista allora a questo punto creiamo i soliti metodi diciamo di gestione del simulatore che sono vabbè i metodi di inizializzazione quindi inizializzazione in cui creiamo gli eventi iniziali impostiamo i vari parametri azzeriamo tutto il metodo di esecuzione e il metodo di esecuzione quindi il run i due metodi che saranno run public void run e l'altro metodo che tendenzialmente teniamo separato che è il private void process event mentre il metodo di inizializzazione potrebbe essere un init public void init a cui passo ad esempio il numero di no beh vediamo un attimo se vogliamo di parametri o no partiamo partiamo semplici poi se ci serve qualcosa aggiungiamo allora nella fase di inizializzazione che devo fare devo costruire tutte le strutture dati e azzerare tutti i contatori tranne devo azzerare tutti i contatori tranne questi parametri di simulazione che o sono costanti e quindi non li devo toccare oppure sono impostabili dall'esterno attraverso i setter che abbiamo definito top sotto quindi set numero di studi set numero di pazienti set tempo di arrivo eccetera eccetera quindi nel init attenzione non li devo sovrascrivere no ma eventualmente potrò inizializzare altre informazioni che ne so creare altre strutture dati sulla base dei valori che sono stati impostati quindi l'utente di questa classe prima crea l'oggetto simulatore poi chiama i vari set per i parametri poi se vuole chiama l'init e poi chiama il run oppure l'init lo facciamo chiamare direttamente da run vediamo il pro e il contro quindi le strutture dati quindi devo essere sicuro che quando parto con una simulazione non mi porti dietro nulla dal passato di simulazioni precedenti quindi dovrò creare una nuova coda degli eventi this queue uguale new priority queue di event potrei fare un clear è uguale non è che cambi molto pulire quella vecchia o creare una nuova e dis.pazienti il mio stato del sistema l'ho reimposto da zero quindi con una nuova ad esempio array list di pazienti vuota per ora non ci sono pazienti e poi a zero i vari contatori dis.pazienti totali uguale dis.pazienti dimessi uguale dis.pazienti che abbandonano uguale dis.pazienti morti tutto uguale a zero punto e virgola bruttissima da vedere ascoltatemi l'ho scritta per brevità sperando di risparmiare due ho risparmiato sei caratteri ma poi mi fa schifo vederla quindi la scriviamo così ok e qui abbiamo il resettato lo stato del sistema lo stato della coda i parametri di simulazione abbiamo detto non li tocchiamo perché sta al main di impostarli al posto nostro array list poverino ha bisogno di un import perché sennò si arrabbia e dovremmo essere abbastanza a posto a questo punto dobbiamo generare gli eventi iniziali generiamo gli eventi iniziali con con i parametri che abbiamo quindi i vari pazienti che arrivano con questo tasso di arrivo ecco mi mancano due costanti che sono l'inizio e la fine della simulazione private final local time ora di inizio che sono abbiamo detto che sono local time punto ov sono le 8 del mattino 8,0 e l'ora di fine private final local time ora di fine uguale local time punto ov 20,0 ok quindi creiamo questi eventi iniziali generiamo gli eventi iniziali quindi abbiamo un intero numero di pazienti generati uguale a 0 e l'ora di arrivo local time ora di arrivo il primo paziente avrà l'ora di arrivo pari al dis punto ora di inizio della simulazione e quindi finché 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 il numero di pazienti che sto simulando è minore di np e l'ora di arrivo di questo paziente è is before dell'ora di fine della simulazione devo aggiungere pazienti nuovi creerò paziente p un nuovo paziente dandogli quest'ora di arrivo e come colore non lo so ancora e quindi sarà il codice colore unknown quando lo creo e poi mi predispongo per il prossimo paziente quindi numero pazienti più più mi serve per limitare al massimo non posso creare più di 150 pazienti e comunque non posso andare oltre le ore 20 perché le ore 20 il pronto soccorso chiude quindi non avrebbe senso creare questi eventi e quindi ho queste due condizioni per questo ho fatto un ciclo wide che un ciclo for perché ho due condizioni diverse che mi delimitano il numero di eventi nuovi da generare questo nuovo paziente lo aggiungo all'elenco dei pazienti quindi posso avere this.pazienti .add dp e poi inserirò l'evento quindi in questo caso ho creato un paziente dico che ce l'ho nel mio stato nel mondo ovviamente ovviamente me lo salvo con la sua ora di arrivo con il suo concicolore e poi genererò l'evento di arrivo di questo paziente l'evento di arrivo di questo paziente ma allora vuol dire che la classe evento deve ricordarsi il paziente cioè che non è che arriva un paziente qualsiasi arriva a questo paziente qui e quindi mi sono già accorto che lo vediamo subito se io creo un nuovo evento questo evento gli sto passando il tempo gli sto passando il tipo di evento ma devo anche dirgli il riferimento al paziente quindi dobbiamo un attimo tornare nella nostra classe evento e dire che guarda che in realtà ci sarà un altro campo paziente che rappresenta quale è il paziente che ovviamente dovrò aggiungere quale paziente che sta arrivando che sta morendo che sta entrando in un studio medico eccetera eccetera perché poi attraverso quel paziente so le informazioni di quel paziente quindi il suo codice colore quindi la sua ora di arrivo eccetera eccetera quindi l'evento non è un evento anonimo ma è un evento nominativo per quel paziente l'oggetto paziente quindi semplicemente di spunto paziente uguale paziente e ovviamente a paziente aggiungeremo anche un getter getter setter il setter non ci serve ma il getter si quindi abbiamo un get paziente in fondo ok allora a questo punto possiamo creare anche qua il nuovo paziente quindi abbiamo un nuovo evento scusate evento event e uguale new event a cui passiamo il tempo di arrivo che sono ora arrivo il tipo di evento che è event type punto arrival e il paziente è il nostro caro P che è appena arrivato quindi abbiamo creato il paziente l'abbiamo inserito nel modello del mondo abbiamo creato l'evento che rappresenta il fatto che questo paziente arrivi a quell'ora e poi mi presispongo per l'ora successivo quindi questo numero di pazienti più più lo vedo meglio sotto perché mi sto già preparando per l'interazione successiva incremento il numero di pazienti che non viene usato nel modello del mondo né nella cosa degli eventi semplicemente viene usato per fare il conteggio in questo ciclo while e ora di arrivo la devo sommare la devo aggiornare uguale ora di arrivo plus la mia duration che era il tempo di arrivo quindi era t arrival e mi predispongo per il paziente successivo quindi queste 5 righe di codice mi popolano eh no manca ancora ovviamente l'istruzione chiave chiave q.add non dimenticatela mai è come andare a prelevare i soldi e poi dimenticare nel banco quando avete fatto tutto il lavoro e poi alla fine l'operazione essenziale per cui avete creato tutto cioè quella di aggiungere l'evento alla coda ve la dimenticate a me capita spesso perché sembra quasi la più scontata ok questo dovrebbe diciamo così rappresentare questa init la creazione degli eventi iniziali dei pazienti iniziali e quindi a questo punto possiamo far partire la simulazione perché ormai diciamo così tutte le strutture dati sono pronte abbiamo i pazienti abbiamo l'informazione su di essi abbiamo la coda con tutti gli eventi facciamo partire la simulazione il metodo run come al solito sarà il più semplice il metodo run poverino prende la coda degli eventi e la elabora ok qui scusate avevo dimenticato è un rosso che mi dà fastidio perché avevo dimenticato di scrivere event qua il metodo run dicevamo è il più semplice perché come al solito lui va a analizzare la coda e stare un evento ed elaborarlo e poco altro ok è il metodo chiave ma è il più semplice di tutto perché il corso del lavoro lo fanno tutti gli altri quindi while q.isempti non è vero not q.isempti allora lui va a estrarre il primo elemento della coda event e uguale q.disk mettiamo il disk per chiarezza q.pol e poi process event di e poi poi noi magari per comodità qua ci mettiamo almeno in fase di debug poi lo cancelleremo una stampa dell'evento che stiamo processando no dando un two string opportuno quindi nel caso semplice questo metodo run è semplicemente così vado avanti fino all'esaurimento della coda se volessimo allora cosa succede qua che possono arrivare dei pazienti fino alle ore 8 fino alle ore 20 ma poi rimangono dentro e quindi la simulazione continuerà a gestire questi pazienti anche oltre alle ore 20 il che vuol dire che alle ore 20 chiude la porta d'ingresso ma chi c'è dentro viene comunque passato e quindi io voglio esaurire tutti gli eventi che ho già dentro relative alle persone che ho già dentro se io invece non volessi cosa assurda per un conto soccorso che all'ora 20 chi c'è viene mandato fuori viene messo in strada quindi non li gestirei più allora potrei aggiungere una seconda condizione qua direi while q.isempti and la data il tempo dell'evento e è minore dell'ora finale allora a quel punto fermerei comunque la simulazione all'ora 20 ciò che succede dopo l'ora 20 non lo vedo più e quindi o li mando via questi pazienti oppure diciamo che non mi interessa cosa succede perché non lo sto più simulando in questo caso prendiamo la versione semplice la simulazione termina quando ho esaurito tutto ciò che dovevo fare sui pazienti presenti compresi quelli che sono arrivati all'ultimo momento e che quindi dovrò trattare anche dopo l'orario di chiusura semplicemente non accetto più nessuno quando è arrivato l'orario di chiusura questa l'interpretazione diciamo così di questo codice qua process event allora process event è un pochino complicato perché abbiamo tanti tipi di eventi quindi process event essenzialmente è un bello switch quasi sempre lo implementiamo così in funzione del tipo di evento e ho tanti casi a seconda di tipo di eventi quindi cominciamo a esaminare i vari casi il primo tipo di evento è l'arrival il secondo tipo di evento è il quando va bene vabbè il triage che avviene subito dopo 5 minuti il terzo tipo di evento è in questo quadro c'è uno studio libero e quindi vengo chiamato break e poi il quarto tipo di evento che finora ho il quinto scusate dice il treated quindi il quarto tipo di evento quando vengo curato e infine il caso in cui avviene un time out sono questi 5 grossi tipi di eventi purtroppo il case ha questa sintassi bruttissima che anziché le parentesi graffe ha le parole chiave case break quindi questo break non dobbiamo dimenticarcelo che chiude un caso prima dell'inizio del successivo altrimenti se dimenticassi il break voi sapete che il codice continua da un caso a quello successivo che sicuramente è una cosa brutta perché eseguo codice che non c'entra nulla allora ce ne sono alcuni tipi di eventi che sono estremamente semplici da gestire arriva un nuovo paziente boh non c'è problema questo paziente è arrivato e lo manda in triage e quindi schedula il fatto che tra 5 minuti avrà un codice quindi questo cliente e su questo nuovo paziente arriva un paziente paziente tra 5 minuti sarà finito il triage ok e quindi semplicemente devo rischedulare questo paziente tra 5 minuti con l'evento triage quindi creerò un nuovo evento nella coda q.add un nuovo evento non vado a modificare ricordate prima vi ho detto vogliamo che l'evento sia un oggetto immutabile non vado a modificare l'evento attuale ne creo uno nuovo con dei valori nuovi che ovviamente ricopia dei valori presenti è rischioso riusare un oggetto evento l'ho usato è entrato in coda è stato un po' in coda poi quando lo estraggo dalla coda leggo sui valori e poi lo butto via nuovo evento che ha come parametri il local time dice l'ora di arrivo ovviamente è punto get time poi avrà il secondo parametro il tipo di evento a questo punto è triage prima era arrival adesso sarà triage quindi event type punto triage e il paziente ovviamente è sempre lui quindi è punto get patient get paziente a cui ho mescolato l'italiano e l'inglese come sempre purtroppo fine non ho altro da fare ah no ho una cosa da fare cioè contare questo paziente quindi ricordiamoci quando arriva un paziente devo aggiornare lo stato del sistema lo stato del mondo in questo caso non ho nulla da aggiornare o devo aggiornare la coda degli eventi cosa che ho fatto e aggiornare i contatori in questo caso è arrivato un nuovo paziente quindi pazienti totale pazienti totale si incrementa fine triage triage ovviamente assegna un paziente assegna un codice colore a un paziente e lo mette in lista d'attesa e poi non è in grado di schedulare l'evento di quando questo paziente verrà curato verrà chiamato perché non lo so quindi cominciamo a scrivere cosa facciamo quando arriva il triage lui innanzitutto deve assegnare codice colore mette in lista d'attesa assegna il codice colore mette in lista d'attesa e poi predispone schedula gli eventuali time out e invece non può schedulare la chiamata in uno studio perché semplicemente non è noto allora concentriamoci su queste parti assegnare il codice colore quindi io so qual è il paziente che arriva dal mio evento quindi e.getpaziente chiamiamolo lo mettiamolo qua sopra estraiamoci magari i dati che ci servono per averli comodamente facciamo una volta solo all'inizio paziente paz uguale e.getpaziente per non scrivere 12.000 volte e.getpaziente quindi anche qua potremmo scrivere paz e.gettime forse non ci serve non ci serve così tanto però il paziente ovviamente lo useremo mille volte allora innanzitutto devo dare un codice colore a questo paziente quindi alla fine dovrò essenzialmente scusate sotto questo commento dovrò scrivere paz.set.colore con codice colore punto cosa? codice colore punto quale? lui adesso ovviamente di sicuro avrà codice unknown io devo dargli white yellow red non so quale e allora potrei pensare di farmi una funzioncina che mi genera un nuovo codice colore così in questa funzioncina ci metterò anche la logica con cui costruisco quel codice colore che per il momento è una logica a rotazione ma poi come ci siamo già detti prima potrebbe diventare una logica randomica una logica stocastica quindi questa logica qua che magari non è semplicissima perché non è solamente una riga di codice non la metto qua dentro perché se no mi confondo il codice diventa troppo complicato lo delego a una funzioncina separata quindi diciamo così nuovo chiamiamo nuovo codice colore questo nuovo codice colore sarà appunto una funzione privata di questa classe simulatore che ogni volta mi restituisce il codice colore da dare a questo nuovo paziente poi lo devo mettere in attesa e poi schedulare un timeout allora concentriamoci su una cosa per volta nuovo codice colore quindi creo quindi creo una nuova funzione che si chiama così quindi una funzione questi qua la siamo in fondo che sono solamente i gator set tranquilli private codice colore nuovo codice colore e in questo caso ogni volta restituisce un codice nuovo quindi noi possiamo ovviamente questa funzione dovrà ricordarsi qual è l'ultimo codice colore che ha generato perché ogni volta ne generiamo uno nuovo quindi ne serve una variabile statica colore codice colore di tipo codice colore colore uguale e allora all'inizio gli diamo white il primo è un bianco final ovviamente sì scusate tolgo lo static no no mi sono sbagliato come non detto allora io ho bisogno di una variabile che venga ricordata non la posso mettere statica nella funzione dovrò mettere statica nella nella classe quindi a me serve ricordarmi l'ultimo colore che ho segnato l'ultimo colore che ho segnato lo posso infilare solamente all'interno delle lo stato del sistema in qualche modo cioè che mi dice vabbè lo stato principale sono i pazienti ma poi ho l'ultimo colore assegnato quindi potrebbe essere un codice colore diciamo colore assegnato a questo punto potrebbe anche non essere estetic non mi interessa e lo inizializzo con white ma soprattutto non lo devo inizializzare nell'init quindi qua avrò this punto colore assegnato uguale white questo quindi cosa succede che io inizio la simulazione mi ricordo che il prossimo colore che dovrò assegnare è bianco e poi cambierò il colore questa variabile qua colore assegnato è una parte dello stato del sistema che è necessario per la simulazione non è lo stato vero e proprio dei pazienti ma è un valore che serve a questa funzione per poter lavorare e quindi innanzitutto lei dovrà dire che lo stato che vuoi calcolare che vuoi ritornare sarà uguale ovviamente il colore codice il colore assegnato che ci siamo salvati là quindi white e poi ritorna questo nuovo colore ma ovviamente dopo che l'ha usato lo deve incrementare se è bianco diventare giallo se è giallo diventare rosso cioè implementare la logica di rotazione quindi a questo punto if colore assegnato colore assegnato fosse uguale a codice colore codice colore john white allora colore assegnato diventerà yellow altrimenti se colore assegnato fosse yellow sono righe di codice molto noiose però poverine servono anche loro yellow attenzione che quando le cose sono noiose si tende a sbagliarle colore assegnato uguale red qua else a questo punto colore assegnato no allora se è bianco diventa giallo altrimenti se è giallo diventa rosso ok se è rosso diventa bianco quindi colore assegnato quindi da bianco diventa giallo da giallo diventa rosso da rosso nell'altro caso tornerà bianco uguale white punto e virgola ok quindi questa funzioncina semplicemente mi restituisce l'ultimo il colore che deve restituire e poi lo cambia se era bianco lo fa diventare giallo se era giallo lo fa diventare rosso altrimenti se era rosso lo fa diventare bianco e quindi ogni volta che la chiamo mi darà un colore diverso a questo punto set colore il paziente aveva un colore unknown e adesso avrà un colore il primo paziente bianco il secondo paziente giallo e così via e quindi in questo caso in qualche modo è come se il paziente fosse già in lista d'attesa in un certo senso nel senso che ha un colore e quindi quando chiamerò il prossimo paziente potrò andare a cercare tra i pazienti che sono rossi qual è quello che è arrivato per primo tra i pazienti che sono gialli che è quello che è arrivato per primo e così via in realtà potrei anche decidere quindi mettere in lista d'attesa in qualche modo l'ho già fatto o ti ho dato un codice colore e quindi in qualche modo sei già in lista d'attesa ma forse è più semplice soprattutto per quando elaboreremo il free studio avere una lista apposta in cui ci sono solamente i pazienti in attesa e quindi non ci sono i pazienti morti non ci sono i pazienti che sono già usciti eccetera eccetera perché noi purtroppo abbiamo la lista qua nel modello del mondo pazienti dove ci sono tutti sempre allora potremmo avere un'altra lista che in realtà sia la lista d'attesa questa lista d'attesa perché deve essere una lista potrebbe essere perché deve essere una lista sempre di paziente che è lista d'attesa attesa come si scrive così no? che sarebbe la sala d'attesa qui ci sono solo quelli dopo il triage prima di essere chiamati sono sotto insieme solamente quelli ma se io anziché una lista la faccio diventare una probability queue e ho la comodità che sarà la probability queue stessa a dirmi chi è il prossimo che deve passare ovviamente a patto di mettere un comparator decente sulla classe paziente questa probability queue non c'entra niente con la coda degli eventi non c'entra niente con la coda degli eventi perché gli eventi vanno avanti con il tempo vanno avanti per conto loro questo qua è semplicemente un deposito in cui vado a salvare i pazienti che sono in sala d'attesa e quindi un sotto insieme di questi pazienti la probability queue mi serve semplicemente come struttura dati di appoggio per poter dire facilmente chi è il prossimo che deve passare e per sapere chi è il prossimo che deve passare dovrò definire un comparatore tra i pazienti quindi nella mia classe paziente gli faccio implementare comparable di paziente e qua dentro ci sarà la logica di gestione della lista d'attesa cioè io dovrò confrontare questo paziente con un altro paziente e dirò che se hanno codici colori diversi so già chi deve passare per primo se hanno codici colore uguale allora passa per primo chi è arrivato per primo quindi questa è la logica che possiamo implementare quindi se hanno lo stesso codici colore passa per primo chi è arrivato per primo quindi se this.colore uguale a other.colore allora il comparatore mi deve dire passa chi è arrivato per primo e quindi delego al comparatore di tempo return this.time scusate come si chiama ora di arrivo ora di arrivo punto compare to other.time other.dile ora di arrivo questo mettiamoci anche delle graffe così è più chiaro e questo è il primo caso invece se i colori non sono diversi vado a vedere i vari casi else if i colori sono diversi quindi per caso this è rosso this.colore uguale red allora è lui return meno 1 ricordiamoci il numero negativo vuol dire che il primo è minore al secondo quindi deve venire prima il numero positivo vuol dire che il secondo è minore dunque almeno sì il numero negativo vuol dire che il primo è minore al secondo e quindi se this è rosso allora è lui altrimenti magari non è lui che è rosso è l'altro che è rosso uguale red non è this ma other allora a questo punto dovrò far passare lui quindi il secondo diciamo più 1 il comparetor ristorna valori negativi o valori positivi la seconda che sia il primo o il secondo minore e quindi quando abbiamo diviso i due casi se non sono passato nessuno di questi due casi vuol dire che nessuno dei due è rosso allora andiamo a vedere se per caso uno è giallo as if this punto colore uguale yellow allora di nuovo meno 1 altrimenti se l'altro è yellow ritorna più 1 quindi se il colore è uguale confronto i tempi se uno è rosso vince quello quindi se il primo è rosso negativo se il secondo è rosso positivo se nessuno dei due è rosso vado a vedere se qualcuno dei due è giallo ovviamente questi confronti di rosso si sbagliano sul fatto che so già che i due non sono uguali ok perché se fossero uguali li avrei già guardato prima quindi questo if sta dicendo se il primo è rosso e ovviamente l'altro non lo è perché se no l'avrei già catturato qua e quindi se non è il rosso sarà giallo o bianco e quindi deve aspettare di più analogamente questo qua vuol dire this color uguale al codice color yellow e ovviamente né lui né l'altro soprattutto non sono rossi perché se no li avrei già catturati prima e non sono uguali perché se no li avrei catturati prima ancora e e basta nel senso che tutti i casi possibili sono stati contemplati perché se né questo né l'altro sono gialli vuol dire che sono entrambi bianchi non può essere uno bianco e l'altro di un colore diverso dal bianco e se sono entrambi bianchi in realtà li ho già catturati qua quindi in realtà non dovrei avere un else in più adesso ovviamente Java si arrabbia perché dice eh ma aspetta hai dimenticato un return perché qui fai tanti return parziali in caso di condizioni però il compilatore non capisce che queste condizioni sono esaustive cioè coprono esattamente tutti i casi possibili quindi qua potremmo in realtà più che ritornare a qualcosa magari lanciare un'eccezione perché vuol dire che sta cosa qua non deve capitare non dovremo mai arrivare qua throw new illegal state state exception ad esempio o no illegal value c'è un legal value no vabbè rimaniamo genericamente con un exception a cui passiamo comparator fail per la persona poi se per caso capita di trovare questa eccezione cerchiamo di capire perché ma non dovrebbe capitare mai trovo new ho scritto che cosa che ho sbagliato chi è? tro run time exception no run time run time exception dovrebbe essere ok va bene avevo scelto la classe eccezione sbagliata una eccezione generica di run time qui non metto un ritorno fasullo ma perché sia un numero negativo che nullo che positivo avrebbe un significato ma io voglio accorgermi se questo succede allora qui eravamo entrati di nuovo in paziente per perché vogliamo che la priority queue del paziente venga gestita automaticamente sulla base dei codici di colore e a parità di codici colore dei tempi allora questo ci semplifica di molto ovviamente poi la gestione dell'evento perché mettere lista d'attesa significa prendere il nostro paziente e aggiungerlo punto add nella lista nella lista d'attesa ovviamente questa lista d'attesa poverina sarà un oggetto che fa parte dello stato del mondo e dobbiamo ricordarci di inizializzarla quindi torno indietro nel metodo init dove inizializziamo lo stato del mondo dove abbiamo creato le altre linee da pazienti e aggiungiamo anche dis.attesa uguale new priority queue questa volta di pazienti quindi la prima è la coda degli eventi gli altri due sono lo stato dei pazienti lo stato del mondo ok quindi a ogni simulazione si riprende di nuovo questa coda e quindi abbiamo assegnato il colore l'ho messo in lista d'attesa e quando ho messo in lista d'attesa ovviamente lui andrà a valutare il colore di questo paziente e lo confronterà col colore degli altri pazienti usando il metodo compare to e lo mette nel posto giusto all'interno della struttura dati e poi schedulerà il timeout il timeout è un valore che dipende dal colore che ho dal colore che mi è stato assegnato quindi aggiungerò alla coda un nuovo evento add new event che sarà quanto il tempo attuale più più la durata del timeout e questa ovviamente dipende dal colore quindi se paz punto get colore uguale a white allora aggiungerò la coda un nuovo evento che come tempo avrà evento punto get time plus duration white e poi avrà dunque sono dentro questa parentesi il secondo parametro di evento è il il primo parametro è il time il secondo è il type e il terzo è il paziente il tipo sarà ovviamente event type punto timeout quindi dopo questo tempo capiterà un timeout del nostro paziente paz e ovviamente qua dovrò fare la stessa cosa per il per il yellow ci metto un else davanti duration yellow e poi dovrò fare la stessa cosa per il red duration red ok questo mi fa ricordare l'ho visto tre righe sopra che ho fatto un errore nell'arrivo l'avevo dimenticato di aggiungere plus duration un triage avrò schedulato l'evento arrivo allo stesso tempo cioè l'evento triage allo stesso tempo dell'arrivo invece devo aggiungere 5 minuti l'ho anche scritto qui ma purtroppo i commenti non fanno fede col che conta il codice quindi è arrivato ho fatto il triage triage gli assegno il colore lo metto in lista di attesa e scherzo il timeout a questo punto ho tutte queste persone che sono in lista d'attesa e possono capitare due cose o si libera uno studio oppure oppure ha scattato un timeout allora gestiamo il timeout che è più facile se scatta il timeout vuol dire che quel paziente lì cambierà colore e se cambia colore devo ridefinire la sua posizione in lista d'attesa ed eventualmente la devo mandare a casa o cose varie quindi un determinato timeout avrà un comportamento che dipende dal colore del paziente quindi se il mio paziente possiamo anche mettere uno switch annidato dentro l'altro così non ci capiamo più nulla però switch paziente punto get colore allora se questo paziente era white e gli arriva un timeout vai a casa se invece era yellow e gli arriva un timeout diventa red se invece era red case red e gli arriva il timeout muore ops due punti a capo muore break ok white break yellow ok cosa vuol muore scritto giusto muore come facciamo a implementare queste varie cose va a casa semplicemente lo conto tra i pazienti ormai usciti che hanno abbandonato e lo tolgo dalla lista di attesa yellow diventa rosso e quindi devo togliere la lista di attesa cambiare di colore e reinserire la lista di attesa nella posizione più fortuna red lo tolgo dalla lista di attesa e lo conto tra i morti quindi tutte e tre le cose qua in comune hanno il fatto che il paziente deve essere innanzitutto tolto dalla lista di attesa allora come si fa a rimuovere quindi un elemento dalla nostra non sto cancellando il paziente lo sto solo togliendo dalla lista di attesa allora io sono andato a prendermi la documentazione di priority queue che implementa collection implementa collection quindi a tutti i metodi di collection compreso il nostro caro metodo andiamo a trovare remove quindi posso tranquillamente dire alla mia lista prioritaria elimina quell'oggetto ovviamente sarà un'operazione che non è efficiente perché l'efficienza della lista prioritaria è quella di stare in testa però sicuramente me lo sa fare con la complessità magari n log n o cose di questo genere linear time for remove objects eccolo qua quindi tutto sommato è accettabile visto che stiamo trattando un caso particolare quindi la cosa che possiamo fare nei casi comuni è toglilo toglilo diciamo così esci dalla vista d'attesa come prima cosa e quindi avrò attesa punto remove di questo paziente poi a seconda del colore del paziente che ho tolto qui non ho cancellato il paziente non ho distrutto l'informazione sul paziente nella lista pazienti lui c'è ancora semplicemente l'ho tolto dall'altra priori di più che ha il sotto insieme di quelli in attesa allora se è bianco e va a casa ovviamente non lo rimetto nella lista d'attesa e quindi semplicemente incrementano il numero di pazienti che hanno abbandonato quanti pazienti abbandonano basta non ho altro da fare qua non lo devo inserire nella lista d'attesa non devo generare nessun evento in particolare quello lì se n'è andato finito era bianco e si è stufato e se n'è andato caso giallo è il caso scusate analogamente esattamente quando muore conto che lui è morto pazienti morti e non ho altro da fare ovviamente l'ho tolto dalla coda prioritaria e non verrà mai più considerato come prossimo paziente da passare ovviamente nella lista pazienti continua a esserci perché ci sono sempre tutti è il nostro catalogo essenzialmente nel caso yellow è un pochino più complicato perché bisogna prendere questo paziente e farlo diventare rosso vabbè questo punto è facile perché basta fare un paz.set colore di codice colore punto rosso quindi red codice colore punto red e poi lo reinseriamo nella coda prioritaria quindi attesa punto add ovviamente il nostro paz andrà a finire in una posizione diversa dalla coda prioritaria perché prima era con codice giallo e adesso è con codice rosso attenzione che in questo abbandonano ho dimenticato i più più parlare e scrivere sono due cose che è difficile fare contemporaneamente scusate mi era capitato l'occhio su questo non mi basta inserirlo nella coda della lista d'attesa ma devo a questo punto visto che lui è diventato un rosso impostare il timeout del rosso e quindi a questo punto impostare il timeout devo generare un nuovo evento quindi è esattamente lo stesso codice che avevo qui quando generavo un evento sul duration red quindi l'unico caso in cui l'elaborazione il giallo che diventa rosso è l'unico caso in cui l'elaborazione di un evento di tipo timeout genera scatena schedula per il futuro un altro evento di tipo timeout e questo è il caso timeout ci rimangono gli altri due casi free studio and treated free studio è un evento che viene generato quando si libera una posizione in uno degli studi del del nostro del nostro diciamo così o pronto soccorso allora quando si libera adesso noi non abbiamo ancora inserito mai questo evento nella lista infatti questo qua è un evento che dovremmo su cui dovremmo ragionare un po' alla fine quando avremo finito di scrivere questo codice però supponiamo che questo evento qua capiti quando qualcuno arriva quando qualcuno dei medici arriva e dice io sono libero e quindi passa avanti il prossimo il prossimo chi? il prossimo di quelli che sono in liste d'attesa allora la prima cosa che devo fare quindi è chiedere qual è il prossimo paziente in liste d'attesa quindi il prossimo paziente sarà quello che attesa appunto poll dimmi chi è il prossimo se c'è un prossimo perché può darsi che la lista d'attesa sia vuota quindi se il prossimo esiste se non c'è nessun prossimo non ho niente da fare se il prossimo invece il prossimo diverso da null quindi esiste un prossimo cioè la lista d'attesa non è vuota io ho tolto un elemento allora devo farlo entrare nello studio entra nello studio e ovviamente ci rimarrà un certo tempo che dipende dal suo codice colore allora anche qua dovremmo ripetere schedulare un evento tipo treated che invece misura il fatto che lui è uscito con un time out con un ritardo che è diverso in funzione del suo codice colore quindi avremo un codice molto simile a questo che non è lo faccio copia e incolla poi lo correggo prossimo diverso da null schedula l'uscita dallo studio e in questo caso a seconda che se il codice colore è white avrà una durata che non è duration white ma è treat come si chiamavano quelle costanti handling handling vabbè non me le ricordo le vado a vedere sopra le avevamo chiamate le avevamo chiamate non le avevamo chiamate c'erano sulle slide ma non le avevamo messe nel codice quindi andiamo a riprendere dalle slide qua in fondo qua dov'è qui no ah questo qui duration white duration red scusate è proprio questo e quindi abbiamo sbagliato tutto prima perché abbiamo usato le costanti duration quando dobbiamo usare le costanti timeout che erano diverse allora chiedo scusa questo è un timeout questo è un timeout yellow questo è un timeout red che sono dove era scritto dove sono scritti dove avevamo scritti scusate mi sto un attimo perdendo non c'è scritto duration white questo qua è il tempo di cura non l'avevamo scritto quindi possiamo inserire noi qualche valore quindi supponiamo che il bianco abbia 60 minuti di attesa il giallo prima di aggravarsi anche lui mettiamo 60 60 60 per semplicità oppure si mettiamo 30 per cambiare 60 90 30 60 quindi devo correggere scusatemi il codice del timeout perché ho usato delle variabili duration e non le variabili timeout allora la duration triage è giusta queste sono timeout white questo è timeout yellow e questo è timeout red quando schedulo il timeout mentre invece quando schedulo l'uscita uso le duration quindi schedulo l'uscita dello studio se il colore era bianco dovrò aggiungere la duration white e definisco il tipo e inserisco un evento di tipo treated se invece lui era giallo verrà trattato per un tempo dato la durata di trattamento del giallo di cura del giallo e schedulo l'evento treated e analogamente per il rosso quindi scusate per la confusione avevo confuso i due tipi di intervallo duration è il tempo necessario per curare una persona quindi il tempo che va tra uno studio libero e il treated e l'uscita dallo studio e ovviamente lo faccio solamente se il paziente se almeno un paziente lo chiamo e lo faccio entrare e schedulo il fatto che lui esca facendo questa attesa punto poll automaticamente lo tolgo dalla lista d'attesa quindi riduco di uno il numero di persone in lista d'attesa viceversa torno indietro se faccio un triage schedulerò il time out con un intervallo di tempo con un ritardo che è dato da queste tre costanti white, yellow e red che inizialmente avevo dimenticato va bene l'importante è correggerlo infine caso treated è il caso in cui il paziente esce dallo studio del medico e quindi a questo punto questo studio diventa libero automaticamente quindi un paziente è uscito e quindi io so che è stato curato pazienti dimessi lo posso incrementare e ho altro da fare allora lo stato del mondo non lo devo modificare perché dalla lista d'attesa lui era già uscito la lista pazienti non lo devo modificare il codice di colore non lo devo modificare altri eventi nuovi non li devo generare e quindi ho finito così no in realtà devo generare un evento nuovo perché se un paziente esce vuol dire che uno studio si è liberato e allora vuol dire che devo chiamare il prossimo paziente in coda quindi aggiungo un evento di tipo free studio cioè ho guarito te e quindi il mio studio si è liberato e allora facciamo entrare qualcun altro e quindi aggiungo nella coda l'evento che si è liberato lo studio l'evento free studio se ci facciamo attenzione ecco qua un errore free studio non ha associato un paziente all'evento perché io dico chiamo avanti il prossimo e quindi il paziente di cui devo che devo estrarre dalla lista con il poll e di cui devo modificare devo reinserire nella lista per essere trattato non è paz ma è prossimo cioè quando aggiungo un evento di tipo treated un evento di tipo free studio non c'è nessun paziente specifico perché io ho trattato un paziente e poi dirò sono libero per un altro ma non so chi sia ok quindi non lo specifico infatti nel caso di free studio per fortuna ci ho pensato avevo usato paz che invece non devo usare perché in quel caso non ha senso infatti lo vediamo quando creiamo un nuovo evento di tipo free studio a un tempo quello attuale subito non è che devo aspettare dopo che è uscito un paziente aspettare un certo tempo prima di chiamare il prossimo subito chiamo chiamo quindi event type punto free studio null non ti dico il paziente perché non c'entra non lo so non mi interessa tanto quando estrarrò l'evento di tipo free studio il paziente me lo vado a cercare io dalla lista d'attesa ok allora qui abbiamo quasi finito quasi finito perché poi è un po' un po' lunga diciamo così questa implementazione purtroppo ma insomma l'abbiamo costruito tutto insieme pezzo dopo pezzo dico quasi finito perché ci manca ancora una parte torniamo a questo diagramma e cerchiamo di capire perché il problema è questo free studio noi sappiamo allora la coda degli eventi funziona bene arrival vado in new 5 minuti l'evento triage mi assegno il colore vado qui se sto troppo ho la mia a meno di bacchia ovviamente no ma siamo convinti di averlo scritto giusto poi non lo sappiamo però se c'è il terminello sul bianco esco se c'è il terminello sul giallo divento rosso se c'è il terminello sul rosso divento nero questo funziona il problema è che non riesco per il momento non c'è nulla che mi generi gli eventi free studio o meglio l'evento free studio viene generato dal treating dal treated quando è uscito dallo studio ma all'inizio della simulazione non ci sono queste cose all'inizio della simulazione non c'è un medico che dice è appena uscito un paziente quindi chiamo il prossimo poi dopo che è uscito è entrato il primo paziente quando esce il primo chiamerò il secondo quando esce il secondo chiamerò il terzo e da lì funziona ma all'inizio no quindi chi genera questi eventi free studio che dice c'è uno studio libero analogamente cosa succede nel nostro codice se non c'è nessun paziente in attesa cioè quando si libera uno studio casualmente in sala d'attesa non c'è nessuno quel medico chiama davanti il prossimo non arriva nessuno e lui rimane lì poi dopo arriverà qualcuno ma quel medico lì non lo sta chiamando perché come l'abbiamo implementato il paziente viene chiamato quando quello precedente esce allora se quello precedente esce quando non c'è nessuno in attesa quello studio rimane vuoto allora noi cosa potremmo fare in più noi potremmo dobbiamo generare degli eventi free studio in più aggiuntivi che ogni volta che mi accorgo che ci sono degli studi liberi chiamo qualcuno per entrare devo chiamare qualcuno per entrare come faccio a sapere no? è un po' come se il medico esce fuori chiama dice davanti il prossimo non c'è nessuno e lui se ne sta dentro a leggere il giornale ma magari fuori c'è un'infermiera che dice guardi che il medico del studio 2 è libero vada pure quindi c'è qualcuno che di tanto in tanto controlla se gli studi sono liberi allora si può implementare in modi diversi questa cosa un modo per implementarlo potrebbe essere se quando vado in lista d'attesa c'è uno studio libero io salto la lista d'attesa e vado direttamente nello studio e allora però devo andare a implementare dentro triage anche quando vado in time out eccetera in tutti questi casi e quindi ci sono dei casi in cui diciamo così salto la lista d'attesa perché non ho pazienti in attesa cioè se quando inserisco una lista d'attesa la lista d'attesa è vuota e per caso uno studio è libero posso inserirlo questo modo di ragionamento mi sembra un pochino pericoloso perché devo andare a considerare a pensare tutti i casi possibili in cui posso entrare direttamente nello studio a me forse però si può fare cioè vado a ragionare caso per caso dico allora cosa succede se qua la lista è vuota e se c'è uno studio libero eccetera allora però succede devo gestirlo dentro triage devo gestirlo dentro time out sicuramente oppure l'altra possibilità è quella di avere un evento periodico che scatta una specie di tick un orologio che è praticamente un check un controllo se c'è uno studio libero se c'è uno studio libero schedulo un evento free studio punto per adesso per subito e quindi vuol dire che se per caso c'è uno studio libero perché siamo all'inizio della simulazione o perché è uscito un paziente e nessuno entrava ogni tanto che ne so ogni 5 minuti controllo se ci sono degli studi liberi se ci sono degli studi liberi genero un evento free studio quindi questi studi liberi non rimarranno liberi per più di 5 minuti se invece sono già tutti occupati boh niente non genera nessun evento in più il sistema si sta autoalimentando da sola cioè finché la coda finché gli studi sono pieni e la lista d'attesa la sala d'attesa è piena il sistema va davanti tranquillo il problema è che bisogna farlo partire all'inizio e poi bisogna rifarlo partire quando per caso la lista d'attesa si svuota allora per fare questo un modo potrebbe essere appunto quello di schedulare un evento che scatta periodicamente un evento che posso chiamare un tipo di evento nuovo quindi mi serve lo posso chiamare tick il tickettio che è un evento periodico per verificare se ci sono studi vuoti quindi vuol dire anziché mettere dei casi particolari in più nel process event dei casi degli altri casi lascio che il process event faccia ciò che deve fare e poi ho un meccanismo che va in parallelo in un certo senso che è mirato dedicato a verificare se ci sono studi vuoti e questo tick è un evento che si auto rigenera da solo quindi allora io vado nel simulatore si auto rigenera con un certo tempo quindi dovrò anche qua aggiungere una bella costante private final duration tick time uguale duration punto of minutes magari 5 minuti abbiamo detto poi se vogliamo essere più fini lo facciamo quindi abbiamo in un certo senso l'infermiera che in 5 minuti si alza e va a vedere se ci sono gli studi liberi e come faccio a sapere se ci sono gli studi liberi e beh se notate noi in tutta la simulazione l'unica variabile che non abbiamo mai usato è questa è proprio il numero di studi medici totali perché abbiamo pensato che ogni studio quando si libera chiama qualcun altro però noi dobbiamo in qualche modo sapere all'inizio che partire dal fatto che sono tutti liberi e poi via via vengono occupati allora ci siamo dimenticati perché non eravamo ancora arrivati a questo dettaglio come vedete c'è sempre da aggiungere quando ritorni non si riesce mai a pensare tutto all'inizio questo è normale bisogna aggiungere allo stato del sistema anche il un dunque questo qui scusate ho dimenticato un po' di private qua davanti già che ci sono corregoli precedenti e qua avrò un private int studi minuscola studi liberi il numero di studi liberi che ovviamente ogni volta che occupo uno studio si decrementa ogni volta che libero uno studio si incrementa studi liberi lo in fase di inizializzazione lo dovrò inizializzare al numero di studi totali numero di studi totali quindi mentre ns il numero di studi totali rimane fisso studi liberi parte da quel valore poi man mano che gli studi si riempiono si decrementa fino a 0 0 vuol dire che non c'è nessuno studio libero ci sono tutti occupati che è la condizione normale di lavoro del sistema allora mettiamo a posto studi liberi dov'è che la dobbiamo modificare? beh la dovremmo modificare quando entra un paziente lo decremento quindi nel caso del free studio entra un paziente quindi se c'è un paziente prossimo allora lo faccio entrare farlo entrare vuol dire che riconosco il fatto che gli studi liberi è diminuito di 1 e poi schedulo il fatto che uscirà quando lo faccio entrare i studi liberi vengono decrementati quando è uscito invece libera lo studio e quindi di spunto studi liberi si incrementa quindi nel momento in cui il paziente esce incremento il numero di studi liberi subito dopo schedulo l'evento studio libero se c'è qualcuno in un'istra d'attesa subito verrà rioccupato con lo studio quindi viene di nuovo decrementato quindi se sono tutti occupati questo studio liberi passa un attimo a 1 da 0 a 1 e poi subito dopo viene ripescato l'evento prende una persona e lo decremento a 0 se invece per caso non c'è nessuno quindi questo poll non mi dà una persona allora studio liberi rimane a 1 rimane a 1 giustamente perché lo studio è libero perché non c'è nessuno da chiamare però prima o poi arriverà qualcuno e allora bisognerà gestirlo e questo arriverà qualcuno lo possiamo gestire con questo nuovo tipo di evento che ci siamo inventati che è il TIC dunque qui siamo scusate siamo ancora qua dentro il case TIC che è l'evento periodico in cui essenzialmente è molto semplice se ci sono studi liberi ops l'ho fatto this punto studi liberi è maggiore di 0 se ce n'è almeno uno allora schedula un ingresso di un paziente quindi schedula un free studio adesso subito quindi se ci ci sono studi liberi allora aggiungi la coda più aggiungi l'evento chiama qualcuno quindi adesso get time senza ritardo l'evento event type punto free studio null e senza nessun paziente specificato quindi qua vado a capo punto virgola quindi periodicamente questo TIC scatta controllo di studi liberi se sono a 0 non fa nulla se sono maggiore di 0 allora schedula l'evento ovviamente questo evento se proverà a chiamare qualcuno se c'è qualcuno in lista d'attesa viene chiamato altrimenti no e quindi non cambia lo stato del sistema se non c'è nulla da fare se c'è qualcosa da fare però lo fa e poi in ogni caso il TIC si autoalimenta quindi si ne metto uno e poi ogni volta si schedula per 5 minuti dopo si punta la sveglia per 5 minuti dopo quindi disk più punto addivente un nuovo evento per quando per adesso più il TIC TIME quindi e punto GET TIME plus this punto TIC TIME dopo questo tempo cosa schedulo schedulerò un evento di tipo TIC e senza senza nessun paziente perché in questo caso non hanno senso fine punto e virgola e siamo arrivati diciamo così alla fine dell'implementazione adesso ovviamente non vi so garantire che questa cosa qua girerà al primo colpo anzi abbiamo fatto una cosa relativamente sbagliata nel senso che abbiamo scritto 300 righe di codice senza mai testarla una volta in realtà sarebbe molto preferibile fare piccola parte di codice cominci a testare quella lo aggiungi eccetera ma era per ancora non allungare troppo i tempi quindi vi risparmio la fase di debugging noi possiamo provare al volo ma sono già sicuro che non funzionerà perché non ho così fiducia in me stesso sim ugual new simulator vediamo un attimo chiamiamo sim.init sim.run e vediamo cosa succede darà un'eccezione da qualche parte di sicuro no? quindi proviamo a eseguirlo qualcosa fa c'è un'eccezione in realtà comparito persona fail quindi c'è qualcosa che non funziona nella nostra nella nostra cosa prioritaria quindi probabilmente inseriamo in quella cosa prioritaria qualcosa che quindi vedete che quando stiamo aggiungendo una cosa prioritaria un oggetto che non dovrebbe che non ha probabilmente il colore giusto adesso qui mi servono le print line per poter vedere cosa sto facendo e quindi ci serve un pochino di debugging ok? questo è normale non preoccupiamoci ok? io vi risparmio la prossima forse ora di lavoro dove ci saranno piccole correzioni da fare io quello che faccio diciamo anche quello che farò diciamo per aiutarvi anche a capire quali sono state gli errori delle piccole correzioni spero siano piccole correzioni da portare io farò un commit del codice adesso in questa situazione così come l'abbiamo fatto in aula poi farò le correzioni che devono essere fatte e farò un commit separato così col secondo commit potete andare a vedere che modifiche sono state fatte in quale classi spero appunto che siano cose minime tenete presente che nel mondo reale quando uno sviluppa codice deve tenere in conto ci abbiamo messo due ore a implementarlo ce ne vorranno almeno due a debaggarlo io spero di essere fortunato di metterci nemmeno di due ore ma sicuramente non vi tengo in diretta con me per altre due ore mentre correggiamo questi piccoli questi errori come vi dico spero siano piccoli ma in realtà non si sta mai però vi lascerò comunque la possibilità di vedere questa versione che abbiamo fatto insieme abbiamo ragionato insieme mentre la facevamo tante volte siamo accorti di piccoli errori per fortuna ma molto probabile che altri ci siano sfuggiti o altre parti di ragionamento ci siano sfuggite questo purtroppo è normale e fa parte dell'informatica essenzialmente non c'è via di scampo ok allora io a questo punto vi ringrazio per la pazienza vi lascio qua e appunto come promesso vi pubblicherò sul sito questa versione col primo commit e la versione spero funzionante col secondo commit nelle prossime ore grazie di tutto e ci vediamo alla prossima grazie a tutti